Buongiorno Adizio io presto perchè devo andare in comune Per fare il cambio di residenza ancora non sono riuscita ad andare a farlo Ok, andata in comune Adesso sono a casa dei suoceri Prima sono passata da questo appone perchè devo comprare due cosine Praticamente ho comprato Questo qui, quello per prendere i peli con le ricariche Poi ho preso due elastici fatti così Di quelli magari per... Di quelli per... Mi dico le treccine la sera quando vado a letto Poi l'elastico quello... Super morbido per il lavoro perchè... Quell'altro poi... Non essere bufis ma poi ve la dico E le mollettine queste qua Dunque... Praticamente... L'altro... Classico, poche parole Lo avevo al polso... Cioè all'inizio lo avevo nei capelli... Mi ero fatta la coda, me la sono tolta E volevo buttare via un capello che avevo E per sbaglio ho buttato via anche dal finestrino della macchina Anche l'elastico Che con quello mi trovavo benissimo Era super morbido... Infatti non mi lasciavano anche il segno nei capelli Non me li tiravano nemmeno Infatti lo dovevo ricomprare perchè... Chiaramente... Ha mandato via quello... E quindi... Non l'ho potuto... Cioè o meglio questo qua... Questo praticamente ma... E' duro... Non mi lascia... Faccio il segno... Me lo lascia anche sul polso... Quindi figuriamoci nei capelli... Con quello invece posso fare anche tre giri... Come nell'altro... Mentre in questo piccolo polso adesso no... Infatti mi fa mano... Adesso lo uso perchè... Ho caldito... Ok... Adesso si va al lavoro... Comunque... Ci tenevo a dire una cosa... Che praticamente... Scusate intanto accendo la macchina... Che praticamente... Eh... Chiuserò il secondo canale perchè... Tanto comunque... Non... Non lo uso... Non lo sfrutto... Quindi è inutile che lo tengo aperto... Se... Non lo devo usare... Ok... Sono uscita dal lavoro... Finalmente sono arrivata a casa... Adesso mi metto a montare anche il video... Io vi mando... Un grosso bacione... Mi raccomando come al solito... Seguitemi anche sui social... E... Ci vediamo al prossimo video... Ciao... 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 Ciao...